Anche un pochettino insomma di quello che fanno perché sono qui e insomma grazie mille comunque per essere i nostri giudici ancora una volta Grazie mille, da chi iniziamo? Dalla mia destra? Mi è una pochina Buongiorno, buongiorno Casale Grazie, grazie per l'invito, è stato molto interessante essere qui Io sono Silvia, come diceva lei, io ho un canale youtube che si chiama Drama Compass in cui mi occupo di drama banale però è così Facciamo recensioni in questo preciso momento, siamo un attimo in pausa per dei lavori in corso ma stiamo tornando con delle novità Il canale si intitola Drama Compass, la pagina Instagram si chiama Drama Compass, il canale tele che non si chiama Drama Compass Ovunque voi che fate, abbiamo ancora un po' a quanto fuori la mia faccia, abbiamo ormai un centinaio di recensioni Diranno che arrivano da tutto il mondo dell'Asia, Corea in primis, Giappone, Thailandia, Cina Tutto quello che mi va di guardare io poi ne parlo insieme, quindi siete benvenuti a dirmi la vostra Grazie Ciao, noi siamo Deborah e Chiara Abbiamo una scuola a Vercelli, è un centro professionale di danza e spettacolo Io sono la direttrice artistica e lei è mia collega, nonché insegnante Oggi ci siamo presi la libertà di assegnare a tutti i partecipanti delle corse di studio per l'Intensive Week a luglio Ok? È una settimana intensiva di danza dove ci saranno tutti gli stili di danza Voglio ricordare a tutte le nostre partecipanti che si sono esibite oggi Che quello che avete fatto è pura danza, ok? Indipendentemente da quello che abbiamo visto cantanti, K-pop, eccetera Tutto quello che noi abbiamo visto, come diceva anche la nostra presentatrice C'è stato anche del vog, noi abbiamo visto del popping, abbiamo visto dei passaggi di voguing Abbiamo visto dei passaggi di hip hop, ok? Tutte queste tecniche devono essere studiate E niente di meglio che farlo durante, diciamo, all'interno di una scuola professionale Indipendentemente dalla nostra Quindi, secondo il nostro parere, per esempio se sbaglio È studiare, studiare per riuscire a fare al meglio quello che voi state facendo Quindi, noi adesso daremo queste borsi di studio che sono per tutti, ok? Al 30% per tutti Ma al primo, secondo e terzo ci saranno maggiori Quindi il primo avrà il 100%, il secondo avrà il 70% e il terzo avrà il 50% E poi ci hanno detto che possiamo assegnare una menzione speciale Esatto Adesso vi diremo poi chi sarà Di fatti possiamo iniziare con quella, se volete Vai pure chiare Allora, la menzione speciale era per la terza classificata Cioè la terza partecipante Quarta? Quarta? Terza Terza La terza partecipante che sarebbe la menzione speciale Sì La menzione speciale di Yeol Yeol, vengono sul palco Vieni pure, vieni, vieni Eccola che ci raggiunge Dunque Giudici, per quale motivo avete scelto proprio Yeol per la menzione speciale? Vieni a morire per favore Noi abbiamo riconosciuto il Vogue e anche comunque l'atteggiamento che c'è in esso nella tua coreografia Non è facile impararla Quindi bravo, complimenti veramente Tra l'altro è giusto dire I centesimi che ti hanno separato dal terzo posto erano veramente pochi Quindi ecco perché è anche questo premio Quindi per te è un veritatissimo Diciamo il quarto posto perché alla fine è quello E la tua posta di studio al 50% Complimenti Yeol Bene, a questo punto direi che potremmo passare No, 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 Yeol, resto sul palco Resto sul palco, sì, sì, sì E direi che possiamo andare Lei vuole da scappare Lei vuole da scappare Ma Silvia vuole scappare un po' di più E allora direi che a questo punto Non lo noterà nessuno se adagio il microfono No, assolutamente no Lo noterò io e ti dirò Ti prego Silvia non fai questo Ebbene possiamo annunciare allora il terzo posto Certo E voi che non l'ho testata Aperta parentesi E' stata abbastanza a contare centesimini Perché ci sono piaciute tantissime divisioni Ah, grande E' scritto quello grande perché non ho gli occhiali Allora Meno, terzo posto Bacca O Mica Mica Mica, venite sul palco Corri, corri, corri Dunque, ci dici Per quello motivo Certo, Mica Allora, ci è piaciuta tantissimo Soprattutto la sua presenza sul palco E' stata molto intensa Le espressioni del viso Si vede che le piaceva tantissimo Tra l'altro pezzo L'ha proprio sentito tanto suo E l'ha trasportato L'ha portato fino a noi Fino a lui Complimenti Complimenti, Mica Benissimo Benissimo Proseguiamo allora con il secondo posto Secondo posto Ok, il secondo posto O V Vieni, vieni, vieni Allora, giudici Due parole per Vic Per la sua esibizione Beh, le motivazioni sono Abbastanza timere Nel senso che Chi è stato premiato oggi Ha dato abbastanza tanto sul palco Ok In Modo equilibrato tra di loro Beh, giustamente E per te Borsa di studio 70% Bravissima, Mica E adesso tocca All'attesissimo Primo posto O Sand Eccola, eccola Ok, giudici Diciamo due parole per Sand Allora, anche lei sicuramente Per la presenza sul palco Ma anche tecnicamente A me è piaciuta molto Come movimenti Fluidità del movimento C'è stata un'attenzione Comunque nell'imparare La coreografia Quindi complimenti Bravissime Bravissime Tutte, bravissimi Tutti i nostri ballerini Bravissime anche Le nostre giudici Che sono state con noi Super professionali Super carine come sempre E Bravissimo anche Il pubblico Che è stato con noi Sotto al sole Che è proprio super temerale Che ho detto Vabbè A me Importa soltanto Del K-pop E non mi interessa Del fatto che mi sto Bruscolendo Al sole Perché è che ho fatto Dallo stand E anche perché Sotto al stand E l'applauso Ebbene E nulla Pubblico allora Posso aggiungere Una piccetta? Certo Assolutamente Un mio consiglio Al tuo Che è molto curato Si vede che io Non pensavo Di salire Sotto a me Sì 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 Sì